La divisione Tools di Spectra è la divisione più storica dell'azienda, infatti Spectra nacque nel 1981 proprio con questa divisione e oggi abbiamo sul territorio nazionale oltre mille rivenditori che consideriamo dei partner strategici per servire i nostri clienti e renderli più efficienti e più precisi. Oggi se guardiamo i clienti che entrano in rivendita, tutti i clienti hanno bisogno dei nostri prodotti in quanto hanno bisogno di livellare, allineare, piambare e squadrare e questo fa sì che i nostri prodotti accompagnano i clienti a essere più efficienti, più precisi. Noi come Spectra consideriamo il punto vendita un partner strategico come dicevo prima con cui collaborare per servire al meglio il cliente finale. Infatti cerchiamo sempre di accompagnare il punto vendita e il personale del punto vendita formandoli al meglio presso il negozio ma anche qui in sede. Infatti questo centro è stato costruito proprio apposta per cercare di dargli tutte le nozioni che gli permettono di servire al meglio il cliente. Siamo presenti in Italia da oltre 40 anni e i nostri rivenditori ci conoscono principalmente per gli strumenti di misura, ossia a livelli laser, tracciatori e misuratori, ma in realtà Spectra è molto di più. La nostra casa madre a livello globale nel corso degli ultimi 10-15 anni ha acquisito più di 100 società. Nel caso delle infrastrutture per esempio o anche nel mondo dell'edilizia in generale, oggi siamo in grado di offrire alla nostra clientela una soluzione allargata, quindi dal concepimento fino alla gestione del cantiere e quindi tutte le fasi all'interno, dal design alla progettazione alla costruzione, noi abbiamo una soluzione specifica. Questo fa sì che offriamo ai nostri potenziali clienti la possibilità di connettere tutte le fasi e quindi di ridurre drasticamente quella che è la complessità, quelli che sono i costi, con benefici economici che possono arrivare anche fino a un meno 30%. Conosco il mondo delle costruzioni da più di 40 anni e devo dire che soprattutto in Italia la tecnologia non è ancora entrata in maniera prepotente. È chiaro che così come è avvenuto in altri settori come il settore bancario, il settore del trasporto aereo, anche qui la tecnologia può aiutare moltissimo le imprese a diventare molto più competitive. Quindi aziende come la nostra in collaborazione con i nostri rivenditori possono unire le forze e quindi diventare sinergiche, nel senso che noi abbiamo la tecnologia e la competenza di come gestire e promuovere la tecnologia. I nostri rivenditori hanno le risorse e la clientela, quindi mettendoci insieme riusciamo veramente a fare uno più uno uguale a 5. Il cantiere digitale non è più un'opzione ma diventa la realtà, una cosa che deve assolutamente avvenire. Quindi i rivenditori più avveduti, i rivenditori più innovativi che sapranno cogliere con noi questa opportunità sicuramente ne trarranno un grande beneficio. I loro clienti si affideranno a questi rivenditori, uno perché gli offrono servizi e soluzioni che stanno già offrendo ma soprattutto perché porteranno innovazione e aiuteranno i loro clienti a diventare più competitivi e quindi a resistere nel medio e lungo periodo.